Salve a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Ultraschrime di GiornaTrenda e no, non farò un gameplay, è solamente un avviso, vi dico solo che questa sera ci sarà una live, ci vediamo alle 20.45 nella mia live, vi aspetto in tanti, ci vediamo, ciao ciao!